Abbiamo deciso, diciamo i commercianti chiaramente hanno deciso alcuni di chiudere all'una e altri comunque chiudere prima che finisca la manifestazione alle 17 proprio in piazza. Alcuni hanno già attaccato i cartelli di avviso ai clienti sulle loro vetrine, saranno aperti solo al mattino. La manifestazione pomeridiana pro palestina nel giorno di Italia Israele preoccupa il centro città e i commercianti, quelli che lunedì solitamente sono aperti, preferiscono tirare giù le serrande. Noi siamo quasi una sessantina, hanno aderito praticamente tutti, anche di quelli che non sono direttamente nel nostro gruppo e la fortuna nostra è quella che appunto capita di lunedì e molti negozi sono chiusi dunque diciamo che si va a perdere di meno sostanzialmente. A chiudere lunedì pomeriggio per ragioni di sicurezza saranno soprattutto i commercianti nei dintorni di piazza 20 Settembre dove arriverà il corteo e che quindi sono più interessati e più vicini alla manifestazione. Si spera ovviamente che andrà tutto bene, che non succederà niente. È ovvio che per sicurezza, almeno per quanto riguarda i miei dipendenti, decideremo di chiudere il pomeriggio giusto per avere tranquillità e serenità. Un corteo pacifico va bene, un corteo pacifico lo accetta in pieno, ma qua c'è la paura che venga fuori qualche brutta roba diciamo. Qualche infiltrato le dice che possa complicare le cose. Adesso a Roma ti bella scorsa, no? Qualche timore ce l'ha, insomma. Esatto. Il fatto di chiudere non è assolutamente contro la manifestazione o a pro o contro da una parte all'altra. Nessun aspetto politico, solo un aspetto di sicurezza in questo caso qua e noi siamo vicini come gruppo, io porto la voce di tutti, siamo vicini come gruppo alla pace e basta. da una parte e dall'altra, questa è la cosa più importante.